Il caso di cronaca nera romana irrisolto peraltro di Jack Lametta, ecco, un cortometraggio torna a far parlare di questo caso. Presentato in anteprima alla Sala Kodak della Casa del Cinema di Roma, il cortometraggio Taglia Corto, diretto da Pier Francesco Campanella con vediamo le immagini della serata, noto al pubblico per film come Bugie Rosse e Cattive Inclinazioni, Taglia Corto è ispirato alla figura di Jack Lametta, un maniaco che nei primi anni 80 sfregiava le passanti sul viso, in pieno giorno, servendosi di un taglierino. Il personaggio in questione, che non era mai stato arrestato e che teoricamente ancora tra noi va a arricchire la folta schiera dei casi risolti del nostro paese. Questa storia, all'epoca data in pasto a una collettività settata di notizie scioccanti, attraverso un continuo bombardamento dei mezzi di informazione, fu in un certo senso antesignana dell'attuale degenerazione dei casi di cronaca nera che tengono banco né TG né talk show in una continua sovrapposizione fiction-realtà. Protagonista del filmato nel ruolo di una studentessa perseguitata appunto da Jack Lametta, è Elisabetta Rocchetti, che vediamo adesso nelle immagini, la giovane attrice rivelatasi nell'Imbalsamatore. Nel caso artistico anche la bella e giovane e brava Emy Bergamo, anche lei nelle immagini, nuova subrette del bagaglino. Tra i futuri impegni di Pierfrancesco Campanella, oltre a un film da lui diretto, intitolato Eccessi d'amore, ispirato alle vicende dei marchesi casati, anche la produzione di un'opera prima dal titolo La bestia dentro, un thriller che vedrà l'esordio dietro la macchina da presa del giovane Emanuele del Greco.